Spoleto, gara 4 questa sera decisiva per arrivare a gara 5. Gli spoletini sono costretti alla vittoria sotto di un match 2-1 dopo essere andati in vantaggio. Ricorderete aver violato il campo dell'avversaria pugliese Castellana Grotte sul 2-0 in gara 2 a Spoleto con due match point sbagliati furono rimontati con la vittoria della Castellana che poi avrebbe bissato il successo in casa propria dunque gara da vincere quella di questa sera alla Palarota con inizio alle 20.30 agli ordini del tecnico Provvedi buona notizia ci sarà anche il capitano Nat Monopoli è stato infatti accolto il ricorso della Monini Marconi che ha ridotto le due giornate di squalifica a soltanto una era stato squalificato Monopoli dopo proprio gara 2 di cui dicevamo quella che aveva visto gli spoletini ad un passo dal 2-0. Gara dunque che a Spoleto è attesissima si prevede il tutto esaurito nella speranza che poi a decidere sia gara 5 ancora in trasferta in terra pugliese. Ed ora il volley quello invece dietro le quinte avrebbe deciso il presidente della Sirsafte Gino Sirci per la permanenza a Perugia del tecnico Trentino Lorenzo Bernardi dopo i noti dissapori successivi ad una dichiarazione non piaciuta al presidente che era stata capita da alcuni microfoni nel dopo finale di Champions League. Bernardi, ma la decisione verrà comunicata ufficialmente domani in una conferenza stampa, dovrebbe restare, aveva fermato di recente un biennale, potrebbe cambiare qualcosa in termini economici e temporali, la sua permanenza, il suo contratto potrebbe essere ridotto ad un solo anno e forse anche con una piccola decurtazione, ma questo lo sapremo domani. C'è invece una svolta tra i dirigenti Recine, ex Lube Civitanova che aveva collaborato con la Sir proprio nell'organizzazione dell'importante Final Four di Champions alla Pala Lottomatica di Roma sarà il nuovo direttore tecnico dei Perugini, resterà direttore sportivo Vojevic e sarà direttore generale invece Rizzuto, ma ne parleremo meglio domani dopo la conferenza di cui abbiamo detto. Ed ora in chiusura salutandovi un...